Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Matos e sono tornato finalmente per portarvi un nuovo video riguardante la carriera di FIFA 17 Signori ovviamente io lascio sempre la scelta a voi Sto facendo questo video appositamente per farvi scegliere quale squadra sarà utilizzata nella carriera su FIFA 17 Avremo tante ma tante scelte Ovviamente dovrete farmi sapere quale squadra voi vorrete che io porti all'interno del tubo qui sotto nel sondaggio in descrizione Le scelte per la nuova carriera su FIFA 17 saranno Sassuolo, Paris Saint Germain, Manchester United, Napoli, Bayern di Monaco, Borussia Dortmund, Olympique, Lyon e Milan Spero che comunque voi appreziate questa mia iniziativa di portare una carriera allenatore all'interno del nuovo FIFA Perché comunque ci siamo dilettati abbastanza quest'anno La carriera è andata bene, non me l'aspettavo Siamo anche riusciti ad arrivare in alcuni video a più di 100 mi piace e questo mi fa veramente emozionare Regà, iscrivetevi qui sotto, ripeto, nel sondaggio scegliete quale squadra vorreste vedere in un FIFA 17 Io punterei a squadre ad esempio Napoli, squadre che comunque hanno avuto un certo cambiamento rispetto alla sessione passata L'annata passata, il Napoli per quanto riguarda la sessione di Guain e tutta la situazione per quanto riguarda il settore d'attacco Poi ci sono altre squadre interessanti come il Milan che si potrebbero riportare agli orgogli e alle vette alte della classifica Non scegliete, cercate di non scegliere squadre tipo il Bayern che si sarà una carriera interessante ma Una carriera sempre monotona, sempre la stessa cosa Quindi io spero che con quel video vi sia piaciuto Se lo è stato commentate, lasciate un like, fate quello che cazzo vi pare, andate a mare e fate ciò che volete Io vi ringrazio in tutto il supporto Sto in vacanza, questo video lo sto registrando prima appunto, molto prima di quando voi lo state vedendo E niente, io spero che comunque apprezzate il mio impegno Bella rega, al prossimo video